Ilari Blasi, la nota conduttrice italiana, è al centro di nuove indiscrezioni che la vedrebbero protagonista di un capitolo significativo della sua vita personale. Durante una recente vacanza con il compagno Bastian Muller, alcune foto hanno catturato l'attenzione dei paparazzi e del pubblico, generando voci su una possibile gravidanza. Scopriamo i dettagli che circondano questa situazione, un nuovo inizio per Ilari Blasi. La separazione da Francesco Totti, dopo anni di matrimonio con Francesco Totti, Ilari Blasi ha ufficialmente iniziato una nuova fase della sua vita sentimentale. I recenti eventi, che hanno portato alla separazione dalla leggenda del calcio italiano, sembrano aver aperto la strada a un futuro diverso per la conduttrice. L'interesse della Blasi verso Bastian Muller è evidente. La coppia, insieme da circa un anno, sembra vivere un rapporto intenso e sereno, contraddistinto da momenti di condivisione e affetto. La conduttrice, in un'intervista con Silvia Toffanin, ha espresso il suo desiderio di un secondo matrimonio, sottolineando che potrebbe rivelarsi ancor più gratificante del precedente. Questa dichiarazione fa intuire una forte aspirazione verso la costruzione di una famiglia. Ilari appare determinata a voltare pagina e a concentrarsi sul proprio futuro insieme al nuovo compagno. Vacanza in Grecia e nuovi sospetti Recentemente, la coppia ha trascorso del tempo insieme nelle isole greche, in particolare a Mykonos e Antiparos. Qui, i paparazzi hanno immortalato alcuni momenti della loro vacanza, in particolare scatti che ritraggono Ilari in outfit estivi che hanno suscitato curiose speculazioni. Con un bikini leopardato e dei jeans slacciati, la conduttrice ha mostrato un ventre che ha catturato l'attenzione degli osservatori. Sebbene il pancino possa semplicemente derivare da un pasto abbondante, le immagini hanno alimentato le congetture riguardanti una potenziale gravidanza. L'immagine di una Blasi sorridente e solare, intenta a divertirsi nella bella stagione, non ha fatto altro che intensificare l'interesse pubblico. La mancata conferma o smentita delle voci da parte della conduttrice ha mantenuto vivo il dibattito tra fan e media. Desideri di maternità e scelte professionali. Il futuro da mamma di Ilari Blasi. Nonostante la sua carriera nel mondo della televisione e il recente rifiuto di condurre il reality show, La Talpa, ora in mano a Diletta Leotta, Ilari sembra ben consapevole di ciò che desidera dal suo futuro. Le recenti apparizioni social e gesti affettuosi verso Bastian, Muller suggeriscono un forte desiderio di costruire qualcosa di duraturo insieme. La conduttrice ha sempre trasmesso una forte personalità e autonomia, tuttavia, i segnali negli ultimi mesi lasciano pensare che l'idea di allargare la famiglia con Muller occupi una parte considerevole dei suoi pensieri. Mentre continua a mantenere uno stile di vita attivo e impegnato, le sue scelte professionali potrebbero lasciare spazio a nuovi progetti legati alla maternità e alla vita privata. In attesa di sviluppi futuri, il pubblico rimane con il fiato sospeso, desideroso di scoprire se ci sarà davvero una dolce sorpresa all'orizzonte per Ilari Blasi e il suo compagno. In attesa di sviluppi futuri, il pubblico rimane con il fiato sospeso, desideroso di scoprire